Sto verificando se si possa condurre unitariamente un partito che necessita di concentrarsi su problemi più grandi, così il deputato PD alla Camera e segretario regionale Fabio Melilli sulla vicenda che lo ha portato ad azzerare gli incarichi dei componenti della segreteria PD del Lazio. I problemi più grandi sono gli stessi da sempre, sanità, infrastrutture, lavoro ed ambiente. Quelle più piccoli probabilmente la causa che ha portato Melilli alla decisione di rimettere gli incarichi, lasciando paventare l'ipotesi di dimissione dalla stessa presidenza del partito regionale. Un caso che di regionale inizia ad avere ben poco, tramutandosi di fatto in un problema che scuote la base nazionale del PD. A breve convocherò un'assemblea nella quale si porterà a conoscenza gli esiti della verifica, prosegue Melilli, che non entra nello specifico delle motivazioni per riportare il tutto a monte, ovvero alla questione partito. C'è una divisione interna sulla vicenda della città metropolitana. Il partito ha bisogno di uno scarto che riguarda i contenuti. Ripeto, dobbiamo concentrarci su questioni più importanti per l'intero territorio più che sulle questioni interne. Il riferimento alle questioni interne è alla polemica nata insieme alla pubblicazione della formazione della lista dei candidati per le elezioni della città metropolitana, una lista che prevede 7 donne su 24 candidati totali. I sospetti dunque ricadono su una lista troppo poco rosa, sospetti confermati da una lettera sottoscritta in pieno da ben 54 rappresentanti donne del PD nel Lazio, indirizzata all'onorevole Melilli, al segretario PD Roma Lionello Cosentino e al presidente della direzione PD Roma Tommaso Michela Giuntella. Una lettera nella quale si sottolinea la mancanza di criteri che hanno determinato esclusioni così importanti in un terreno come quello del PD in cui la parità di genere è considerata come uno dei pilastri fondanti dello stesso partito. Tutto il PD attende con ansia la convocazione dell'Assemblea. Melilli sarà ancora la guida del partito nel Lazio?